mi pestavi sui tasti digitami presto mettimi in memoria qualche input non vedi come pulsa sullo schermo il mio cursore finalmente sento che mi digiti che cosa scrivi ah stai scrivendo uno rispettare la natura significa rispettare noi stessi due le piante e gli animali sono i nostri fratelli minori tre che cosa accadrà se continueremo a non capire queste verità ho capito adesso attendi ho bisogno di qualche secondo per elaborare i dati ancora una volta voglio dimostrarti tutta la mia prontezza di riflessi tutta la mia intelligenza tutta la mia ubbidienza per te ecco sento che la risposta mi scorre dentro ed arriva la risposta è accadrà che vivremo sempre peggio perché il male che facciamo alla natura cioè a noi stessi ci torna sempre indietro ora prova con un'altra domanda ma fai piano non pestarmi i tasti che cosa stai scrivendo come si può rispettare la natura attendi qualche secondo che elaboro la risposta vedi come lavoro non aspettavo che quest'ordine perché non ci hai pensato prima è possibile che quando mi usi hai sempre bisogno di ricorrere all'help già sento che ho elaborato la risposta anzi l'avevo già prima che tu mi digitassi ed è per rispettare la natura ognuno deve cominciare da poco e da vicino perché lui stesso deve cominciare a rispettarla e adesso che hai perché diventi triste prima mi pestavi sui tasti e adesso che ti ho detto la verità ci rimani male che cosa credevi che un computer non sapesse ciò che è giusto commento un computer non potrà mai sapere ciò che è giusto perché non ha coscienza e solo la la coscienza si scopre divina